Volevo dipingere, avevo questo sogno di fare le mostre e far ridere, è un po' banale, però volevo dipingere. Il mio problema era il fatto di conoscere solo e esclusivamente artisti uomini e quindi io quando ero piccolina volevo essere un uomo. Non sopporto dipingere solo per riempire una tela o per usare un colore così, quindi l'idea e il significato sempre. Quali sono i tuoi soggetti preferiti? Allora, rappresento la realtà sempre e a volte spesso utilizzando il mito, quindi la mitologia greca, romana, ma non sempre. È un avvicinamento molto naturale e poi mi piace raccontare la vita, la gente, le situazioni, la realtà, insomma. E con questo trittico che cosa vuoi esprimere? Queste rappresentano le parche, le parche sono tre dee greche o romane che rappresentano il destino dell'uomo e quindi la durata. La prima è Cloto, che è collega in testa dello stame della vita, la seconda è quella che decide, si chiama la Chesi, e la terza è Atropo, ovvero morte, e è quella che taglia il filo della vita. E quindi tre idee che rappresentano la durata della vita di ciascuno e sono molto attuali, insomma. Grazie. 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 Grazie.